e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tutte le notizie riguardanti il mondo di fortnite le trovate belle fresche belle croccanti ovviamente argomento principale tutto quello che è capitato nella giornata di ieri a partire dalla skin delle stormtrooper direttamente nello shop ovviamente mi riferisco alla nuova collaborazione fortnite x star wars come stanno facendo purtroppo da inizio season a questa parte non ci sono state notizie ufficiali che ci abbiano fatto capire nei giorni precedenti di questa nuova e importantissima collaborazione ma ovviamente da adesso nei file di gioco sono presenti delle cose anche in game molto molto interessanti nel video di oggi parleremo oltre che della collaborazione in sé con alcuni dati nuovi anche ovviamente del grande punto interrogativo presente nel battle royale parlo della nave imperiale si perché quando alzate gli occhi al cielo direzione 220 vedrete in alto l'inizio dell'atterraggio o del passaggio della nave imperiale di star wars e vi posso garantire ragazzi che è enorme oggi la vedremo molto più da vicino ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi anche sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per la vostra compagnia e soprattutto un grazie di cuore a tutti quelli che vogliono supportarmi con il mio codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video ma prima la domandina ve la devo fare anche ieri mi avete risposto in tantissimi grazie di cuore per i vostri commenti domanda di oggi molto interessante ma se te potessi scegliere quale skin vorresti della saga di star wars in fortnite ci sono veramente tantissimi personaggi che potrebbero essere selezionati io personalmente vorrei jabba ragazzi che è l'ultimo nella seconda fila a destra il tizio quello ciccione enorme che parla che parla così però sarebbe anche molto bella la skin dei due robo dici uno b8 e non mi ricordo sinceramente il nome dell'altro ditemi invece quale sarebbe quella che vorreste voi qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance allora andiamo subito a parlare due secondi di questa collaborazione di fortnite con star wars è veramente un brand importantissimo uno sicuramente dei più importanti al mondo che ha ovviamente caratterizzato un'epoca 30 anni di cinema gadget videogiochi merchandising insomma un fenomeno sociale la skin delle stormtrooper è disponibile fino al 17 novembre 1500 v bucks non si può purtroppo giftare ma la cosa più interessante è ovviamente là in alto nel cielo non so se riuscite a vedere alla sinistra dell'ombrello più o meno in centro dove c'è il cielo quel puntino piccolissimo nero beh quel puntino piccolissimo ragazzi non è altro che questa nave spaziale non è una nave spaziale qualunque è la nave la nave imperiale di star wars che qua invece vediamo direttamente nei file di gioco prima di farvi vedere un'immagine incredibile voglio farvi vedere più da vicino la la navicella e ci arriviamo con il con la modalità creativa ed eccola qua siamo a chilometri d'altezza momentaneamente come vedete questa è la prima forma della nave non ci sono dettagli importanti considerate e guardate quanto il personaggio è alto rispetto al livello del mare e rispetto all'isola vi dico di controllarlo perché è importantissimo per riuscire a capire una cosa fondamentale ovvero sia ma questa navicella spaziale in fin dei conti quanto è grande beh ragazzi hanno fatto una stima e guardate che roba se così fosse se la stima fosse corretta la navicella sarebbe grande due terzi del un terzo della mappa un qualcosa di assurdo da pensare ed enorme se qualora venisse più vicino io credo che la vedremo nei prossimi giorni molto più da vicino e reputo anche che sarà veramente una grande figata e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi nel trailer ufficiale uscito proprio per celebrare la collaborazione con star wars appare un'immagine che ha fatto il giro del web davanti in prima fila vediamo uno stile di pesce secco nuovissimo che ovviamente va a riprendere anche qua il la la parte del buono di star wars potrebbe essere tranquillamente obin one kenobi rivisitato la vera domanda è è uno stile quello di pesce secco o è una skin a parte mi dispiace ragazzi ma dai file di gioco sembrerebbe che è una skin a parte un po come hanno fatto con la versione di halloween della banana spero che si stiano sbagliando anche perché pesce secco è fantastico che abbia tutte queste stili continuo io a non credere davvero che possono inserire una skin così importante e così ignorante a parte e non regalarci lo stile anche semplicemente per tutto quello tutte le persone che avranno sicuramente scioppato lo stormtrooper questa immagine è molto interessante anche perché come vedete in mano alla skin di destra c'è un piccone che in realtà ancora non è stato ufficialmente rilasciato ed è una mega mazza da baseball veramente molto molto carina così com'è interessante anche la variante del pesce secco e come vi dicevo speriamo che non sia una skin a parte e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi parliamo invece del frosty fortnite che cos'è il frosty fortnite è un concorso ufficiale indetto da epic games che comincia così a portarsi avanti con le festività natalizie ovviamente in arrivo il mese prossimo cosa bisogna fare per partecipare momentaneamente nulla o meglio dalla prossima patch la 11.20 che dovrebbe essere programmata per martedì prossimo arriverà nella modalità creativa arriveranno i nuovi oggetti a tema di natale quindi le gallerie in queste gallerie ci sono anche i pupazzi di neve fortnite ci chiede di seguire ovviamente fn create come vedete nella seconda riga in azzurro e poi condividere con fn create le vostre creazioni in creativa non sono ancora stati resi pubblici i premi che verranno dati a chi ovviamente verrà selezionato nota molto importante ci dicono di utilizzare i pupazzi di neve perché guarderanno tantissimo anche a questi dettagli quindi ragazzi sfaggiate la vostra creatività la vostra fantasia e mi raccomando cercate di creare il miglior quartiere la miglior mappa creativa a tema natalizio direi ragazzi che anche per oggi siamo arrivati alla fine io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao